e oggi ancora pizza ma una pizza importante strutturata siamo sempre da Gianni Calaon pluricampione del mondo di pizza buongiorno e allora che cosa abbiamo pensato abbiamo pensato di abbinarlo a un bardolino chiaretto spumante perché Gianni la pizza che cosa ha di caratteristico questa pizza come l'hai chiamata questa si chiama lombra è una pizza che è fatto dal 98 è proprio un abbinamento che ho fatto io pensando a una parmigiana e l'ho elaborata a gusto mio quindi ho messo dentro in cottura una pancetta al pepe la melanzana cotta al forno solo con un filo di sale e basta e ho messo un pomodorino confit sopra il pomodorino confit il pomodoro che viene sbucciato tirato via dai semi e messo a cucinare 4 ore a 100 gradi con del zucchero di canna sale timo volendo un po di profumo di aglio ma proprio pochissimo va messo sopra in cottura quando esce del grana e del basilico salvatico quindi è una parmigiana più o meno bene quindi ci troviamo di fondo una pizza come dicevamo prima una pizza strutturata importante quindi richiede un vino con una struttura abbiamo scelto appunto un bardolino chiaretto sfumante in cui abbiamo una buona struttura una buona persistenza che si deve contrapporre in un certo qual modo a questa aromaticità intensità e persistenza gustosattiva della pizza veramente una pizza importante ma il bardolino in questa versione sfumante riesce a reggere molto bene il l'abbinamento diciamo che in questo caso proprio si riesce a raggiungere la perfezione perché il cibo esalta il vino il vino esalta il cibo e questo è lo scopo dell'abbinamento cibo-vino soprattutto della nostra associazione italiana assomani grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti